16 milioni di euro a tanto ammonta il valore dei beni a setti societari confiscati all'imprenditore di Capaccio Pestum Roberto Squecco di 55 anni, disposto dal Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno la direzione distrittuale antimafia. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dalla Divisione Anticrimine della Questura di Salerno e dal Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Nei confronti dell'imprenditore già condannato anche per i reati commessi per favorire il clan Marandino. Nello scorso mese di gennaio è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di intestazione fittizia di beni, peculato, interruzione di pubblico servizio, favoreggiamento personale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, turbata libertà degli incanti, abuso d'ufficio ed altro unitamente ad altri dieci indagati. Per la prima volta in Italia è stata attivata grazie alle indagini della Polizia di Stato. La procedura è introdotta dal Regolamento Europeo 2018-1805, entrata in vigore a dicembre 2020, concernente il riconoscimento reciproco del provvedimento di congelamento e confisca dei beni, in questo caso eseguito in Romania. Il Tribunale ha disposto la confisca di una società con sede in Italia, due associazioni di soccorso, 26 automezzi, 7 contocorrenti, 12 terreni di Capaccio Pestum, un terreno sito a Zimbor in Romania per un valore complessivo stimato di circa 16 milioni di euro, applicando anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni. In particolare, il Tribunale di Salerno ha riconosciuto nei confronti di Squecco manifestazioni di pericolosità sociale sia qualificata in quanto indiziato di appartenenti alle associazioni di cui al 416 bis, nello specifico al clan Marandino, e del delitto di cui all'articolo 512 bis, trasferimento fraudolento di valori, che generica, in quanto soggetto che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose, ha evidenziato che lo Squecco è da considerare soggetto socialmente pericoloso sin dalla seconda metà degli anni 90. Risalgono a quel periodo infatti le denunce per truffa, ricettazione e violazione delle norme tributarie, traffico di carte clonate, nonché operazioni di distrazione di beni e capitali postenessere in danno degli ereditari delle società amministrate formalmente o di fatto e poi dichiarate fallite. Il nuovo filone di indagini su Squecco si era aperto dopo il carosello delle ambulanze del giugno del 2019 a Capaccio Pestum per festeggiare l'elezione del sindaco Franco Alfieri. Gli investigatori hanno avuto modo di appurare che Roberto Squecco, anche grazie al reinvestimento dei proventi dei reati tributari, ha di fatto continuato a mantenere il monopolio nei servizi delle onoranze funebri e del pubblico soccorso nei comuni di Agropoli, Acerno e Capaccio Pestum. Attraverso la creazione di nuove associazioni e società intestate a prestanome, ovvero infiltrandosi in imprese di terzi già attive in modo da sfruttare in maniera occulta mezzi e licenze altrui, conseguendo un notevole arricchimento. Sotto tale profilo viene stigmatizzato il complesso sistema di fatturazioni per operazioni inesistenti realizzati da Squecco attraverso società cartiere e operanti nel settore sanitario, che ha fruttato solo nel periodo dal 2017 al 2019 introiti per circa un milione di euro, successivamente riciclati nelle casse delle onlus, riferibili a Roberto Squecco e distratti per finalità personali o per creare provviste di denaro contante.